Sabato scorso 2 luglio la comunità di Sansa ha ricordato Carlo Pisacane e le vittime dello scontro avvenuto proprio a Sansa il 2 luglio del 1857, che determinò la sconfitta dell'esercito di Pisacane approdato a Sapri con l'obiettivo di raggiungere l'unificazione dell'Italia. Con una celebrazione sobria ma sentita e carica di valori e significato, sabato 2 luglio la comunità sansese si è ritrovata proprio sul luogo in cui si è consumato lo scontro con i reduci del massacro ad opera delle guardie borboniche avvenuto alle porte della certosa di San Lorenzo, che determinò la morte di Carlo Pisacane ad opera dei cittadini di Sansa. La cerimonia di sabato scorso si è posta come primario scopo quello di salvaguardare la memoria storica attraverso il riconoscimento del ruolo e dell'eroismo che i patrioti italiani ebbero al fine di raggiungere l'unità d'Italia. A presiedere la manifestazione l'assessore Marianna Citer accompagnata dagli amministratori comunali da una rappresentanza dell'arma dei carabinieri e dei carabinieri forestali dalla locale sezione dei reduci e combattenti di guerra con il parroco Don Giuseppe Spinelli. Riposta una corona dall'oro con gli onori ed il silenzio, ricordate le gesta di Pisacane, dei valorosi 300 con l'intervento dello storico locale il professor Felice Fusco. La figura del patriota Pisacane non solo va ricordata ma soprattutto va rivalutata, sottolinea l'assessore Citera. Occorre ricordare la storia e gli accadimenti facendo luce su un momento molto delicato per la comunità di Sansa che nella figura di Pisacane ha trovato lo spirito di unità nazionale e di rispetto delle istituzioni. Occorre ristabilire una verità storica che, mal raccontata per troppi anni, ha leso l'immagine e la dignità del popolo di Sansa, ha sottolineato Marianna Citera. Il nostro lavoro è finalizzato anche a questo, ridare dignità ai fatti storici così per come si verificano, onorare il coraggio e le virtù di uomini eroici che credettero nella libertà di un popolo oppresso e nella bellezza di un popolo unito. Assente il sindaco di Sansa Vittorio Esposito, convalescente dai postumi di un recente intervento chirurgico.